ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video eccoci qua come ogni tanto ogni spesso accade con un video dedicato a voi che state guardando e ai vostri orologi alle vostre collezioni al vostro percorso e come vi rapportate con il prossimo perché si potremmo anche dire che l'orologio al polso è anche un modo per rapportarsi con il prossimo da lanciamoci in questa sorta di psico analisi c'è chi indossa l'orologio costoso per farsi vedere per mettersi in mostra c'è chi indossa invece lo stesso orologio costoso perché ha il piacere di indossarlo perché sa cos'è cosa rappresentato e cosa porta con sé c'è chi indossa l'orologio stravagante per attirare l'attenzione c'è chi indossa l'orologio stravagante perché invece ne ha a bizzeffe e ogni tanto gli ci vuole un orologio per uscire dagli schemi altrimenti si annoierebbe è anche un modo per rapportarsi con il prossimo questo sì possiamo dire così diciamo che è così chiaramente come partecipare lo sapete fate il video anche con lo smartphone in orizzontale possibilmente massimo sette minuti non dilungatevi troppo concisi spigliati rapidi poi lo mandate via email a me il link perché lui lo caricate su wittransfer.com e mi mandate il link io lo scarico sovraimpressione oggi vi mostro l'orologio del giorno che è speciale questo bellissimo omega de ville orologio dei primi anni 2000 con calibro derivato dal 2500 in realtà sul numero sarebbe 2600 e qualcosa perché è il 2500 con la riserva di carica ma la particolarità più grande oltre al quadrante grigio che non se ne vedono tanti è proprio il bracciale a mattoncini questo bracciale lucido a mattoncini così ammaliante è veramente bello è veramente bello io direi che è proprio bello adesso mando i discorsi inutili e passiamo al primo video ciao davide ciao a tutti gli amici del del canale oggi voglio rendervi partecipi del mio ultimo acchiappo e cos'è è un orologio che ho desiderato da praticamente da quando sono appassionato di l'iterologeria era il mio sogno e finalmente l'ho trovato un bravo offerta completo di tutto lo adoro faccio vedere cartier santos top referenza vs sa 00 09 grazie 2018 tutto acciaio un orologio incredibile finiture qualità senza 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 uguali veramente un piacere anche solo osservarlo e tenerlo tenerlo in mano stupendo tutto stupendo direte direte voi ho trovato anche con un ottimo un ottimo affare il corredo completo di garanzia mai altro cinturino in pelle eccetera sì tutto perfetto se non fosse che al suo interno c'è questo fantastico della serie 9000 ebbene sì fate fate attenzioni perché io sono stato anche in boutique da cartier abbiamo controllato i seriali le garanzie il corredo i cinturini anche gli esperti orologiai di cartier nonostante la loro trentennale esperienza ma pensate se non l'avessero aperto non avrebbero scoperto la la magagna ora non so se questo è un super fake se se l'orologio è vero ma hanno solamente switchato il meccanismo non so non so che dirvi niente volevo solamente raccontarvi questa questa mia disavventura mamma mia mi spiace che fortunatamente si è risolta bene con un rimborso completo da parte meno male della piattaforma tramite tramite la quale ho effettuato l'acquisto perché sono riuscito a provare che appunto l'oggetto acquistato non corrispondeva a quanto dichiarato dal venditore niente peccato pensavo di aver fatto un ottimo affare invece non è stato così e un saluto a te a tutti amici del canale alla prossima alla prossima mi dispiace mi dispiace per quello che ti è accaduto però da una parte sei stato rimborsato quindi sei sei tornato in possesso del tuo danaro insomma però fa pensare questa cosa ora qua non si riesce a capire se se si addirittura e gli esperti di cartier non riescono a riconoscere l'orologio come falso ma solamente tramite il movimento significa che o è fatto bene o è un vero cartier con un movimento cambiato cioè sarebbe interessante riuscire ad arrivare al termine di questa di questa cosa qua anche perché poi non riesco a capire perché miota 9000 è miota 9000 non è nemmeno tra i più economici dei calibri no perché non ho messo miota 8000 ma forse per lo spessore oppure una cinesata poco spessa probabilmente perché perché quando si comincia a parlare di migliaia di euro poco mi importa se dentro ci metto un miota 9000 che è relativamente più costoso degli altri guadagno c'è sempre tanto vale che ci metto un calibro sottile e lo do via così però la cosa è quanto preoccupante ora non so quale su quali piattaforma tu l'hai preso però questo sta perché spesso le persone chiedono anche a me è prendiamo come esempio crono 24 è affidabile crono 24 come piattaforma si crono 24 come piattaforma è affidabile ma i venditori possono essere più o meno affidabili come su ebay come su subito punto it come su qualsiasi mercatino è il venditore che è più o meno affidabile poi la piattaforma ti mette a disposizione tutte le garanzie possibili però se se te che devi dire alla piattaforma vai pagalo perché se a te ti arriva l'orologio ok dopo devi essere in grado di vedere di capire se quell'orologio corrisponde al vero o no se c'è qualche magagna se è vero se è falso se se ha un problema meccanico se non ce l'ha se è stato lucidato se le carte corrispondono quindi se te in primis che devi essere in grado devi essere affidabile con te stesso perché poi una volta che te l'hai guardato gli dici alla piattaforma si l'orologio è a posto pagalo ma se non sei grado di fare questo come fai qua mi dispiace non so come è fatto se sei andato così per scrupolo farlo aprire ma è fatto bene a questo punto cioè è veramente veramente un mondo di pesce cani come si suol dire altro non mi viene in mente da dire se non che si era veramente cioè non l'hanno riconosciuto ma non so non so cosa dire sono rimasto male da questa da questo super fake poi di cartier santos va bene mi dispiace prossimo video ciao davide sono davico e guenze e questo video che ti mando voglio mostrarti come si sta evolvendo la mia piccola raccolta di orologi bravo allora partiamo subito con l'orologio del giorno che questo moon's watch e nulla ne ho due due non mi è stato regalato un altro invece lo comprai io perché ritenevo opportuno comunque provarlo ma se è un bell'orologino ma se nulla a che vedere poi con quel che è l'orlogeria secondo citizen pro master ghiera verde cosa dire questo orologio è stupendo è un orologio veramente valido per quel che sono le sue caratteristiche lo provai con il bracciale gommato e così per spizio lo voglio provare anche con questo bracciale e ti dirò che nonostante il bracciale sia molto rumoroso perché un semplice lamirino ripiegato ma sai che mi dà molto più comfort e molto più feeling con questo e di fatto da sentire non è che la qualità è più più un bracciale di qualità è più è comodo per esempio il bracciale del mio seiko s kx il jubilee è veramente di bassa qualità tra virgolette no veramente lento se te lo metti di fianco così si piega molto sembra quasi che da un momento all'altro si sta per spezzare però è comodissimo è comodissimo veramente fascia al polso in maniera incredibile così anche anche il bracciale del citizen pro master tra l'altro ora sono usciti quest'anno il citizen pro master marine che uno lo vorrei sinceramente per la prossima estate in sostituzione del pro master full lume che ho venduto e mi dicono che quei bracciali lì sono fatti molto meglio anche la cerniera più spessa e tutto un po secondo gli standard contemporanei io probabilmente lo prenderò con il cinturino in gomma perché perché lo voglio utilizzare la prossima estate come ho detto del bracciale non mi interessa assolutamente niente ci mettono lo utilizzerò col gomma o con un bel nato come al solito queste sono le mie scelte per la prossima estate ma siamo ancora nel 2023 l'estate si può essere anche morti eh infatti volevo mi ero ripromesso poi di comprargli anche un aftermarket ma ancora non l'ho fatto mi ci trovo bene e sono molto soddisfatto insomma di questo orologio di come va con soddisfazione stupendo timex marlin questo orologio e io ci ho cambiato il cinturino come puoi vedere ho messo questo nero con le impunture rosse bello perfetto gli ha dato molto più sportività molto più cavoli l'ha azzeccata proprio alla perfezione veramente è suo vintage così in questo cuoio po grezzo ruvido con le impunture rose che riprendono la piccola sfera dei secondi è una cosa eccezionale bello promosissimo io quando l'ho recensito è una curiosità che forse non molti sanno quando l'ho recensito il mio aveva il problema che dalle ore 12 alle ore alle ore 4 la sfera dei secondi zoppicava che è una caratteristica vogliamo chiamarla difetto e demi 8 della serie 8000 che hanno i secondi indiretti no viene riportata al centro tramite una ruota aggiuntiva e c'è una levetta che deve fare un po di frizione se questa è un po molla la sfera sente la forza di gravità e fai dei saltini non cambia la cronometria tiene il tempo quindi l'ho venduto la persona che l'ha comprato lo sapeva perché ha visto la recensione d'altronde è però mi ha mi ha comunicato dopo una decina di giorni che aveva smesso di farlo ora io questi questi miracoli della divina provvidenza io non so come possono avvenire non so non lo fanno tutti questo qua probabilmente non lo fa però succede il mio dottomila che fa così diciamo è più visibile più bello secondo me credo che se ho imparato un po a conoscerti in tutti questi anni che ti seguo tu converrai con me che ci sta veramente bene questo cinturino l'unica cosa che di questi cinturini che mentre lì sono troppo corti perché io ho un polso da 20 e volevo dirti che questo orologio come un altro che ti farò vedere tra due minuti e mentre tu lo stavi recensendo io stavo guardando il tuo video non ho finito di guardare il tuo video per ordinarne subito uno su internet sempre l'acquisto marito croix 39 orologio e tu ai tempi che sono dicesti tutto io lo tengo ancora gelosamente l'acciaio sta ha fatto un po di macchie non so se coppa mia o se proprio cose si è se si è macchiato con l'acqua e tutto ma rimane comunque un orologio molto affascinante che mi piace molto non ho idea di cosa si era il ritaglio 1963 orologio bello sicuramente bello con un font vintage molto bello è l'unica cosa di questo orologio che lo porto poco nonostante il mio polso da 20 quindi non è un problema di lag to lag o dei suoi 43 mm ma è un problema innanzitutto del cinturino cinturino veramente bocciato per questo orologio perché è duro è molto corto e spesso e poi anche lo spessore dell'orologio in estate a mezzemaniche sì ma in inverno no quindi un orologio non per tutti ecco grazie fa piacere no anche quando gli amici del canale come qui in questo caso ci dicono ci fanno una sorta di recensione a lungo tempo perché anche io no anche anche voi anche nel mio gruppo telegram ad esempio qualcuno compra no poi magari gli orologi si tengono poco io quando faccio le recensioni non è che lo utilizzo per dei mesi e quindi i punti devoli vengono fuori anche dopo dei mesi specie sulla comodità su certe situazioni e questo questa rubrica fa anche comodo perché voi potete dare il vostro feedback dopo un lungo utilizzo come in questo caso sembra un bello orologio è un bello orologio è tutto però ti rendi conto che il cinturino è rimasto duro è per lui è corto questo deve fare anche alle aziende far capire che a me succede con i vintage che sono corti no però in questo caso al per lui è corto troppo spesso un po ingombrante boh ha capito sono tutte le pillole che ci lanciano gli amici del canale e un crono più sottile ultimo orologio ti so sideral bello e leggero orologio anche questo stupendo ne sono innamorato anche questo stavo guardando la tua recensione non ho finito di guardarlo per mandare subito un email al nostro amico giacomo della geleria pasquale dominici e l'ho ordinato subito lui in due giorni me l'ha fatto arrivare fino a casa e orologio da da estate sicuramente da spiaggia e tutto quant'altro ma veramente quando lo indossi si è visibile ma te lo guardano veramente tutti anche perché credo che sia molto bello questa cassa in carbonio forgiato è un qualcosa di stupendo un feeling pazzesco qua veramente difetti per me non ce ne sono e la domanda che volevo farti era riguardante a maurila croix come casa avevo adocchiato il pontos e però ho aspettato tutta l'estate la sua recensione da parte tua non c'è stata purtroppo e e quindi dovrò andare obbligatoriamente in geleri a provarla e quindi a vedere come mi sta al polso ma ti invito però se mai tu ne abbia la possibilità di di farci una recensione per tutti noi bene ti saluto caro davide grazie grazie a te dello spazio che mi hai concesso e l'off l'off e allora il ponto sì io l'ho visto ora siamo a fine 2023 ottobre novembre 2023 io l'ho visto nel 2022 quando sono andato in fabbrica da maurice lacroix in anteprima me l'hanno messo lì sul tavolo e io tra tutti quelle novità dell'anno successivo avevo subito detto il ponto questo qua eccolo qua questo qua è un orologio che mi piace ho detto anche avrà successo poi non lo so se è successo o no poi c'è stata una serie di è uscito nel 2023 dopo un anno abbondante addirittura a fine estate credo non mi ricordo e non è arrivato il negozio da giacomo della gioielleria pasquale domenici non gli è arrivato quindi ho perso la possibilità di prenderlo al volo ormai il tempo è passato sì magari fra qualche fra qualche tempo lo prenderò in considerazione farò una recensione vedremo però è per quello che non ho fatto la recensione perché è proprio mancato il timing giusto quando è uscito non è arrivato in gioielleria per un disguido e perde per dei mesi non è arrivato quindi non l'ho potuto toccare con mano e poi dopo sono sovrapposte altre situazioni nuovi marchi presi e mi butto come un pesce quando vedo gli orologi nuovi dei nuovi marchi mi butto a ciucciarli tutti voglio provare poi non è detto magari comunque complimenti e l'ultimo il tisoli sidera è proprio l'orologio estivo per antonomasia no a te detto il il tiso cronografo pesante ingombrante quelli e leggero te lo metti al polso con quel cinturino morbido è in cauccio in gomma sintetica la cassa forgiata in carbonio però è rivestita perché all'interno il cuore è in acciaio però è leggerissimo veramente bello complimenti per gli acquisti e bravo che ti devo dire prossimo ciao davide facciamo i miei orologi facciamo veloce tanto sono pochi allora vai partiamo da lui citizen pro master bello che non ha bisogno di presentazioni no persone coke così non si vede seiko kinetic sports 200 che dovrebbe essere del 98 funziona più o meno funziona poi poi un altro seiko 5 5 bello questo dial dial perché dite dial perché dite dial dial ma lo sento dire in tanti dial no allora invece di dire diver dite diver eh dite diver e diver e dial se no se dite diver dite dial perché inglese non siete obbligati a dire dial potete dire quadrante io dial lo utilizzo per non fare del dei raddoppiamenti nel senso quando sono a scrivere un testo non posso dire il quadrante è x allo stesso modo l'altro il sottoquadrante c'è no allora devo dire dai devo trovare un sistema un sinonimo per non duplicare la parola ma voi partite da zero dite quadrante o se volete dire dial dite dial 30 36 forse non lo so forse di meno comunque è molto bello mi piace anche a me si trova mica più poi un doxa vintage del 62 63 bello carino complimenti al vetro e la corona non originali ma e vabbè ci si passa sopra buone condizioni poi ho fantastico swatch di vegeta che non male e per ultimo ho questo bombe mercia bello questo tottito al top in realtà di mia madre però ah ecco ritiro al top e basta ciao ciao sbrigativo veloce orologi abbastanza diciamo così ti scivolano addosso orologi che ti scivolano addosso buone mercia era l'unico cavolo che vive in voglia di chiedere di più no dimmi cos'è perché poi era di sua mamma e allora sono buono anch'io vado a prendere gli orologi di tutti i miei parenti poi vengo qua e vi dico eccoli qua questi sono i miei e allora va bene te sei rimanato a settembre te torni a settembre e con degli orologi un pochino più di di sostanza un po di ciccia vai prossimo un pomeriggio davide sono francesco da roma e francesco inclusito dal tuo canale ho voluto anch'io mostrarti la mia piccola collezione di orologi scusami ma io ho avuto una grave moraggia se è grave non riesco a parlare bene e a ricordare le cose parto allora mi dispiace per quello che ha avuto le cose si fanno serie ragazzi la vita può succedere a tutti una cosa del genere una malattia quindi metto 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 le mani avanti cioè io scherzo scherzo con tutti quindi scherzerò anche con te metto le mani avanti non me ne vogliate perché secondo me il miglior sistema il miglior modo per far sentire una persona proprio agio e non fargli pesare la condizione nella quale si trova è trattarlo come si trattano gli altri senza senza dover utilizzare falsi perbenismi scherzo quindi scherzo anche con te non ti offendere anzi cominciamo già a vedere il guanto di pile per la saga delle tovaglie eccola lì questa con i fiorellini blu ci sei sei dentro perfettamente nella media del canale bravo ti sei adattato il primo uno vecchio bulova gli anni fine 80 anni sono 90 dovrebbe essere uno degli ultimi con meccanismo bulova prima che passasse alla citizen a bulova venisse acquisita la citizen ma io che mi risulti bulova non ha mai fatto calibri in house di architettura proprietaria a parte e gli apason calibri meccanici non me ne vengono me ne so vengono ditemi poi voi se sto dicendo una bagianata ma eta eta era fornitore di bulova prima di passare a citizen negli orologi meccanici quindi questo qua sarà ancora uno di quelli con gli eta tra l'altro ce l'ho avuto anch'io un bulova degli anni 90 bellino con la metà dentro secondo me così bulova non ha mai fatti calibri in house ora bello è un altro orologio che ho voluto acquistare un lucian rochard argento con quadrante di argento il crono scusa ho sbagliato l'unico problema per questo è che una volta che ho portato a fare revisione mi è sparito sotto il fondello con con il marchio e tutto quanto mi era messo ma come 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 ti è sparito l'hai portato a fare la revisione e non è che c'è il mago blu zurli che fa e piripi piripi l'hai dato all'orologiaio l'orologiaio quando te lo ridaci deve essere se non c'è gli dice uh dove è finito il pitafio che era dietro eh oh ma cosa facciamo qua è sparito che poi c'è la prima volta che vedo un orologio nel quale è collato incastrato diciamo un medaglione nel fondello cioè che io sappia è magari mi sono capitati ma non senza sapere che la tecnica di ancoraggio è questa ho sempre pensato che i fondelli sono in un pezzo unico vabbè ovunque fatelo ridare trova il sistema sono riuscito a trovarlo se tu puoi darmi qualche suggerimento ti ringrazio poi ragazzi allora attivatevi voi ha bisogno del suggerimento tutto il canale si deve attivare tutti i follower per trovare il pezzo di ricambio lì per il Lucien Rochat dell'amico eh facciamo sto sforzo dai cominciate a muovere le conoscenze con un eberhard bello forse tutto un eberhard bello tassi uguali il 31 30 che bello per l'age guarda lì molto bello si è staccato poi ho uscirà per il giro per il 7000 acciaio e oro acciaio oro questo orologio come saprai sta nel museo in america dell'orologia poi ho un polpico polpico paul mariner 2 bello sto qua un certo ma io non amo tanto i rolex vabbè ora qua non c'è non amo la gente che sfoggia rolex solo per vanto certo ma sto qua non gli assomiglia un rolex è bello ho comprato un polpico mi piace ho comprato un fessino tanto perché mi piaceva la forma della cassa automatico un automatico un fessino brutto eh mamma mia poi ho acquistato nel 2020 due orologi perché il 2020 ho avuto le grave emorragia dal quale sono per fortuna uscito e per regalarmi non sono proprio ciofeche come dici tu nooo c'è questi due bicchiere di qui era vittoria insomma queste qui mi piacevano molto e anche la ditta molto seria ho parlato spesso col proprietario ed è una persona squisita certo questo particolare è che mi piaceva col bracciale di qui era qui era insomma come si dice beckeria cronografo si riesco a vivere non riesco a vivere eccolo questo è il fondello bello mi piaceva e l'ho acquistato hai fatto bene secondo me è meglio di venezianico questo lato qui qui era verde ho cambiato il cinturino ho messo questo verde aveva questo e del cinturino di che montava così come ho chiesto bello spessi eh mi sono acquistato questa è una ciofeche appunto probabilmente per te un grand gener è un oggetto che ho usato spesso evito di mostrarti tutte le altre ciofeche che ho messo neanche sul tavolo bravo vorrei solo contesemente dirti se mi aiuti a trovare il fondello del luciano roccia cron che io non sono riuscito a trovare neanche tramite gli orologi di mia fiducia ti ringrazio mi hai rinvigorito sugli orologi non so se potrò comprarne altri ti ringrazio tanto e ti auguro buona volta tutto il bene possibile ciao grazie 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 per gli auguri per il bene per tutto quello che hai detto e ti auguro anch'io il meglio che insomma che la salute ti assista il discorso che attiviamoci ragazzi per l'amico per il medaglione facciamo qualcosa il suo desiderio è quello lì cioè cosa purtroppo non ho nemmeno in contatto quindi lasciate sotto nei commenti se trovate come contattarvi insomma facciamo fede ai commenti sotto al video perché io cancello sempre l'email una volta che ho scaricato il video e il video lo vedo dopo due mesi quindi beh i belli orologi sono contento che ti è tornata la passione grazie a me divertiti dai prossimo video ciao Davide ciao questo è il secondo video che ti mando per aggiornare la mia collezione sono Claudio e sono della provincia di Trento Trento 33 trentini partirei subito con gli orologi premettendo che anch'io faccio parte di quella famiglia di collezionisti che vorrebbe risparmiare per fare acquisti di un certo livello ma poi fa fatica e continua a fare acquisti diciamo di orologi entry level o quasi e poi non riesce mai ad accumulare i soldi necessari per l'acquisto di orologi di alta fascia è la gioca allora gli orologi che ho aggiunto nell'ultimo diciamo anno della collezione sono i seguenti iniziai con un classico Timex Expedition un orologino molto semplice ma comunque comodo per tutti i giorni niente di che un bel quarzon indiglo e passa la paura secondo acquisto abbiamo questo Orient Kamasu nella colorazione verde adesso qui abbiamo dei riflessi guardate sto verde qua ho fatto anche la recensione mi sembra io sto verde qua se non sembra un nero cioè è un verde talmente sobrio talmente elegante da ometto come si suol dire che compare solamente quando vai al sole lo spari al sole allora vedi riflessi verde e petrolio altrimenti se in ambienti chiusi è quasi nero quindi è un orologio perfetto non è quel verde che smaccante che ti spara in faccia che dice bellissimo gli ho montato questo bel bracciale che lo valorizza molto e a me piace un po' pesante ma comunque un orologio veramente notevole per quello che costa è un orologio maschio secondo acquisto sempre della categoria non riesco a risparmiare questo Vagari ma si acqua G-Matic un bel automatico che costa veramente due lire secondo me è un acquisto che ci può stare gli ho montato un citturino in gomma lo porto in piscina o comunque quando voglio un orologio subacqueo senza troppo troppe pretese ha proprio un bel colore e anche l'estate secondo me piace parecchio terzo orologio questo Citizen Donut Pilot è un cronografo al quarzo e si sono già visti sul tuo canale molto spesso e questo è nella colorazione nera gli ho messo un cinturino in gomma perché secondo me lo rende un po' più sportivo e quello il suo di metallo è molto lamierino insomma quindi orologino da tutti i giorni è gradevole comunque gradevole passiamo al primo Ciofeca Alert questo non so perché mi è caduto tra le mani questo Lorenz GMT al quarzo volevo qualcosa un GMT anche se al quarzo Lorenz non gli adoro la Ciofeca perché dai è un marchio che sarebbe anche serio poi questo qua non vorrebbe nemmeno essere una coppia uno a uno però è smaccatamente Explorer lì freccione è evitabile è un orologio evitabile lo è evitabile sì che è evitabile però ti sei preso dall'acquisto compulsivo per te è una gioga è diventata una gioga quindi farzo sono caduto su questo orologio qui beh non lo so penso che a Natale finirà nei regali a mio nipote di undici anni che l'ha visto e già me lo ha puntato e io super volentieri glielo regalerò facendo la figura dello zio generoso invece non vedevo l'ora di liberarmene penultimo anzi terzo ultimo orologio questo è K-Watch che conosci benissimo tu l'hai recensito io l'avevo notato devo dire prima della tua recensione vedertelo recensire in modo positivo mi ha solo fatto appunto piacere portato via a un buon prezzo per un anche qui per un bel gruppo d'acquisto ha un bel colore grigio topo che non si vede spesso la lunetta è in K1 bello bello anche ottima resistenza alla profondità è un orologio veramente da portare al mare senza pensieri da sfruttare costa poco un altro acquisto che per te è un Ciofeca Alert è questo bellissimo Kadisen io qui non ho resistito vedendo le caratteristiche tecniche le caratteristiche tecniche ma le caratteristiche tecniche ma cosa sono le caratteristiche tecniche non lasciatele perdere le caratteristiche tecniche cioè il ProMaster col vetro minerale il VETA che ho io col vetro minerale il bracciali con il lamierino no si criticano e facciamo bene a criticarli critichiamoli ma poi alla fine se un orologio piace lo si compra anche con quei punti deboli lì no il contrario invece è comprare un orologio in base alla scheda tecnica che è tutta perfetta quando poi si tratta di un design preso pari pari da Seiko ora quadrante bianco seiko non mi pare che lo facciano però è capito tra tutti quelli che hanno fatto ci hanno messo quadrante bianco queste qua Kadisen Pagani Design Banyar Steel Dive Valdis Dive sono tutti la stessa la stessa cerchia di persone che cambiano marchio fanno orologi sotto altri marchi copia su copia su copia su copia e poi nessuno mi dice che quelle stesse fabbrichette lì le fanno uscire anche dall'altra parte con il marchio per i falsi capito ho dimostrato in un video andatevelo a vedere Corje che su fa la copia del Black Bay del Tudor Black Bay e su Amazon avevano ancora nelle fotografie quando ti guardavi le fotografie ci passi sopra col mouse che cambiano quella della corona con il simbolo di Tudor mi un corjo con il simbolo vuol dire che lo vendevano anche con il simbolo di Tudor chiaramente ho fatto il video poi l'hanno tolta e questo lascia anche pensare che qualcuno non so chi l'italiano che è collegato con loro ha visto e gli ha fatto cambiare o mica avete ancora il disegno con l'orologio falso toglilo hai capito chi sono questi bambaccioni qua la qualità delle finiture e anche il rapporto qualità-prezzo ho deciso di comprarlo fregandomene del fatto che sono orologi fatti in Cina che scimmiottano orologi più famosi questo penso sia un po' ho capito fregandomene del fatto che cioè fregandomene nel momento in cui uno dice me ne frego a livello morale a livello etico te ne freghi te ne freghi te ne freghi se fanno i falsi te ne freghi se copiano un design te ne freghi se queste persone stanno approfittando di te perché prendono i tuoi soldi per darti della roba per la quale hanno costruito delle aziende fungo solamente per cioè con nessuno scopo di ricerca e sviluppo di andare avanti di portare avanti una storia una costruzione intorno no negozi brochure situazioni niente è il niente solamente fare questi orologi alcuni con il marchio falso alcuni con il marchio Kadisen questi qua li diamo in quel mercato là questi qua li diamo là soldi 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 e te ne freghi io me ne frego me ne frego perché ho questo qua c'ha le caratteristiche tecniche vuoi mettere le caratteristiche tecniche poi te lo metti al posto e vai in giro vaci in giro un homage o una copia del 62 mass della Seiko non saprei non sono sicuro però veramente per quello che l'ho pagato poche decine di euro viaggia che è una meraviglia affidabile e per portarlo in spiaggia senza veramente troppi pensieri credo che sia un buon acquisto certo hai ragione tua a dire che non stai comprando storia non stai comprando blasone però a volte chissà non è comprare storia comprare blasone cioè perché altrimenti non compreresti niente che non sia un Patek Philippe no ti faccio un esempio qualsiasi micro brand no qualsiasi no anche lì bisogna guardare la maggior parte dei micro brand che ne sono italiani anche no non è che hanno storia o blasone ma c'è un progetto dietro c'è qualcuno dietro cioè un calamai che è dietro lì che ti spiega che ti parla rimani affascinato dalla persona che è dal suo progetto dalle sue passioni dalla sua idea da dove è nato tutto da quello che vuole usare da come sta andando avanti da quello che ti costruisce anche intorno no quello non è blasone è quello un progetto un minimo di qualcuno che c'è dietro qua dietro non c'è nessuno ci sono un nome un cognome attaccati su una porta a Hong Kong dove c'è un ufficio dove c'è una segretaria che poi rimanda a una scatola che è a Shenzhen dove ti fanno nella fabbrica chiudono un scatolone lo mandano nel deposito c'è niente non c'è niente non c'è niente non è la storia del blasone del 1700 è un progetto e le persone che ci sono dietro le persone le persone ne frega ultimo acquisto di cui invece sono strafelice ed è forse il primo orologio di un certo livello è questo splendido Baltic Baltic ha forse storie blasone no ma dietro ci sono delle persone che io non conosco che stanno costruendo tutto un insieme di cose per i quali vengono apprezzati gli orologi il loro design quello che stanno facendo hanno anche una linea retta di marketing che non va a finire nella pubblicità su Instagram aggressiva quella compri tre paghi due iscriviti fai brighi seri vanno dritti per la loro strada e piano piano si stanno facendo il loro mercato ma non è che hanno storie blasone però sono validi così come Christopher Ward non è che sono secoli che c'è è poco ma hanno saputo lavorare bene fare brigare marketing giusto quello giusto quello concreto e raggiungi dei livelli quindi vuole sgombrare il campo che non è che deve comprare la storia il blasone di un orologio ma quello che c'è dietro nel momento del presente in cui stiamo parlando quello che c'è dietro dietro quella porta apri la porta guardi cosa c'è persone cose situazioni e chiudi e niente quando l'ho visto mi sono assolutamente innamorato comprato sulla fiducia dalle foto dal sito si vedeva anche solo in foto che era un orologio veramente eccezionale è bello non riesco a metterlo a fuoco decentemente ha un bellissimo quadrante blu che vira l'azzurro sotto il sole qui nelle riprese è un po' troppo scuro ma comunque è un orologio veramente bello per quello che costa è il mio ultimo acquisto e me lo sto godendo proprio bravo alla grande come prossimi orologi pensavo di salire un po' di livello cercando finalmente di risparmiare qualcosa e sono indeciso tra un Hamilton performer da 38 o un Rado Golden Horse o un Longines Spirit da 37 qui veramente la battaglia è è difficile sono tutti orologi insomma uno è da 1000 euro gli altri sono vicino ai 2000 cambia un po' però non lo so qui sono veramente nel pallone perché il Rado mi fa impazzire l'Hamilton performer l'ho visto anche dal vivo è una splendida via di mezzo tra elegante e sportivo e lo Jean Spirit da 37 sia nero che blu che bianco sono spettacolari quindi non lo so dimmi un po' tu cosa ne pensi anche in base agli orologi che hai visto forse il Golden Horse è quello più non lo so vintage barra dress che potrebbe aggiungere qualcosa alla collezione che mi manca ciao grazie a tutti per la pazienza e al prossimo video al prossimo video ciao 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 sono tre belli orologi cosa ti posso dire io però sono anche abbastanza diversini perché lo spirit è veramente cioè c'ha luminescenza corona bella potente numeri arabi ben visibili cioè è un pilot diciamo la verità anche se da 37 mm è un il rado Golden Horse è più sciccoso è più luccicante è più prestigioso a vederlo ti dà il più video di pregio veramente io prenderei il rado Golden Horse guarda un po' cosa ti dico io ce l'ho avuto l'ho venduto 37 mm per me è appena appena piccolo forse appena appena piccolo però è spettacolo quello quelli due lì sono a un livello di prezzo poi il performer invece è un gradino sotto a livello di prezzo quindi ti può essere più conveniente e lì si va abbastanza sì nell'orologio tutti i giorni senza però risultare troppo sportivo è una via di mezzo tra un orologio elegante e un orologio sportivo dunque scegli te cioè non è che posso scegliere io per te io prenderei Golden Horse rado Golden Horse che poi tra l'altro prima o poi dovrebbero anche finire quindi non è che c'è tutto questo tempo infinito di poter scegliere boh mi sembra di aver detto tutto dai vi ringrazio per essere arrivati fino a qua aver guardato i video con me spero vi siano piaciuti di aver allietato il vostro tempo in maniera gradevole e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube Love Grazie a tutti Grazie a tutti.